Senigallia Web TV, le notizie di oggi venerdì 3 di ottobre. L'assemblea congressuale di Anci Marche ha scelto il suo presidente confermando Maurizio Mangialardi in carica dal 1 luglio 2013 ed eletto all'unanimità. Per i prossimi 5 anni il vicepresidente sarà ancora Goffredo Brandoni che ha già ricoperto analogo incarico nel quinquennio precedente. Varato il bando per la concessione di contributi per i servizi di trasporto pubblico a favore degli studenti residenti nel comune di Senigallia frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie relativi all'anno scolastico 2013-2014. Per maggiori informazioni il sito del comune www.comune.senigallia.n.it. Il comune di Senigallia ha stabilito le date dei mercati straordinari domenicali fino al termine dell'anno. Questo il calendario è il 5 ottobre 9 novembre 7 14 21 dicembre. I mercati domenicali si svolgeranno con le stesse modalità e gli stessi orari del mercato settimanali del giovedì. Sabato 4 e domenica 5 al Fora Nonario, Sapori d'autunno. Vediamo. Sesta edizione di Sapori d'autunno, fiera di prodotti tipici e dell'artigianato locale promossa da Confartigianato al Fora Nonario di Senigallia sabato 4 e domenica 5 ottobre. Saranno presenti al Fora Nonario circa 40 espositori e nell'ex pescheria come di consueto ospiteremo le proloco delle valli del Mise del Nevola. Quindi quasi tutte le proloco hanno aderito e all'interno appunto dell'ex pescheria presenteranno i prodotti del loro territorio. Mentre sulla parte antistante, quindi parlo del Fora Nonario, ci sarà l'artigianato, l'artigianato artistico, il commercio con un'attenzione particolare ai prodotti autunnali. Quest'anno alcune novità. Intanto la presenza della ditta Cioccolateria Vittoria che presenterà una tazzina speciale, quindi ricoperta di cialda con dentro il cioccolato e quindi resistente al calore. Quindi in anteprima, direi europea perché la sta brevettando, anche direi mondiale, presenteremo questa tazzina a cura della Cioccolateria Vittoria. L'iniziativa sarà aperta come di consueto dagli sbandieratori del gruppo storico di Corinaldo con Busta Revixi, che dalle 5 partiranno in corteo dall'inizio del corso alla piazza Safi per poi chiudere con uno spettacolo nella piazza del Foro. Ferro di cavallo, quadrifoglio, cornetto rosso, zampe di coniglio, chiodi, storti e sale in tasca. Ecco come attrezzarsi per l'edizione numero 17 di Halloween, la festa delle streghe a Corinaldo e la superstizione nei giorni 25, 26 e 31 di ottobre. Un grafico e un fotografo, entrambe senigalliesi uniscono le forze per realizzare un libro particolare. Il ricavato della sua vendita andrà in beneficenza. Insieme al fotografo Paolo Monina, parlando di fotografia di un modo utile per aiutare le persone che sono state colpite dall'alluvione, abbiamo pensato a questa iniziativa. Ritrarre le persone successivamente all'evento per accogliere la testimonianza attraverso l'utilizzo della fotografia, quindi delle immagini, delle emozioni che scaturiscono al momento in cui si ricorda questo evento. Il tutto finalizzato ad una raccolta fondi. Tutte queste immagini vogliono essere raccolte in un libro venduto e ricavato, darlo all'Associazione Gente di Senigallia che provvederà a identificare un'iniziativa benefica a cui tutto il progetto poi riverserà. In questo momento stiamo cercando persone che vogliono farsi fotografare, che vogliono dare la propria testimonianza di quello che hanno vissuto. Deve essere una testimonianza personale, un'esperienza privata di quello che hanno provato, di quello che è successo loro in quel momento e tutto quello che ne consegue. Terminiamo con lo sport. Fumata bianca, Matteo Di Marino è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Vigor Senigallia. Centrocampista classe 92 Di Marino vantaggia a soli 21 anni un curriculum di ottimo livello, 5 anni in Serie D, 68 presenti totali e 4 reti messe a segno sempre con la maglia della Re Canatese. Sono dati che rappresentano un bel biglietto da visita. Comincia davvero a fare sul serio e a dare spettacolo la Max Control, la squadra maschile dell'US Pallavolo Senigallia che il prossimo 18 di ottobre inizierà il proprio cammino nel campionato di Serie D. In Coppa Marche il torneo di preparazioni ai campionati al quale partecipano squadre di Serie C e di Serie D, i derazzurri di coach Alberto Ranari hanno vinto le prime tre gare del primo e del proprio girone, ipotecando la qualificazione degli ottavi di finale. È tutto, grazie per averci seguito, buon fine settimana, torneremo insieme lunedì prossimo, vi aspetto.